Io posso immaginare che nel momento in cui è stata depositata la documentazione attinente alla procedura di acquisizione delle quote ci siano sia i requisiti di onorabilità che quelli di sostenibilità finanziaria. E quindi laddove la commissione dovesse a mio sommesso avviso decidere sulla base della documentazione pervenuta a quella data senza farsi condizionare dagli eventi successivi che sono accorsi al momento del deposito ci sarà un benestare e quindi ripeto la società potrà andare avanti con il socio di minoranza e con l'amministratore che naturalmente dovrà conservare il bene nel suo maggior sviluppo possibile e quindi si potrà andare avanti serenamente e invece è molto più complessa la situazione laddove la commissione ritenesse di dover assegnare a questo evento sopravvenuto una validità che intacca la solidità finanziaria del club. A quel punto la commissione potrebbe dare un esito negativo soprattutto su quello che concerne i requisiti di onorabilità e di sostenibilità finanziaria per cui il presidente federale a quel punto dovrà notificare un provvedimento nel quale fa presente che non sono stati adempiuti o che non si ritengono integrati gli adempimenti per l'attestazione della presenza dei requisiti di onorabilità e di sostenibilità finanziaria e a quel punto si potrebbe aprire un procedimento disciplinare un primo procedimento disciplinare in ordine a questa presunta assenza o assenza dei requisiti. Certo è che per quanto riguarda il mercato si potrebbe ma il condizionale d'obbligo parlare di operazioni straordinarie non so quanto straordinarie possano essere qualificate le operazioni di mercato di una società sportiva quindi è ovvio che in questo ci addentriamo in un campo molto sottile che come sempre mette a confronto apre una finestra di confronto tra l'ordinamento dello Stato e l'ordinamento sportivo perché non è una situazione come tutte le altre cioè il sequestro di quote di una società sportiva deve necessariamente fare i conti con la partecipazione di quelle quote ad un ordinamento sezionale che è quello sportivo che ha delle proprie regole, delle proprie norme, delle proprie consuetudini per cui il mercato per noi non è una cosa straordinaria forse lo è per l'ordinamento sportivo, per l'ordinamento dello Stato ma non lo è per l'ordinamento sportivo norme alla mano io le dovrei rispondere che rischia l'esclusione dal campionato laddove ci dovesse essere una sentenza di condanna sulla base dei criteri di onorabilità e di solidità finanziaria nel momento in cui non si rispetta quel termine di 30 giorni per la dismissione della partecipazione che abbiamo detto ha un elemento stativo che è un provvedimento dello Stato per quanto riguarda la mia esperienza personale ritengo che se gestita nel miglior modo possibile naturalmente due procedimenti disciplinari di stampo sportivo non sono proprio una passeggiata ma se gestiti nel miglior modo possibile secondo me il Teramo può serenamente pensare di terminare il campionato di competenza senza alcuna conseguenza